ciao a tutti ciao buonasera ore 23 23 tondo è 23 23 tonde mercoledì 6 marzo starete vedendo fuori dal coro ma c'è una cosa che mi sono tenuto dentro tutt'oggi e mi sono ripromesso di riparlarne perché è una direttina al volo è poco per l'importanza di questo argomento e anche Borgonovo anche l'amico Borgonovo ne parla ne parla con rammarico e con e con rabbia con rabbia perché affonda veramente con il suo articolo affonda letteralmente il governo dicendo una vergogna e di cosa stiamo parlando di questo green pass virgolettato eterno eterno che è andato in gazzetta ufficiale attendo che siate collegati considerando l'orario e premetto le 23 23 anzi 24 per la precisione non e soprattutto dato il tema dell'argomento che ovviamente non è molto non è molto sicuramente un tema di gusto del sistema che farà di tutto per nascondere l'argomento anche perché è un argomento che contesta in questo caso il governo italiano di centrodestra e non è una contezione non è una contestazione da gente di sinistra nella contestazione da gente delusa dell'ennesima promessa non mantenuta dell'ennesima azione di un governo che in campagna elettorale ha predicato benissimo benissimo tanto che è arrivato a prendere oltre il 30 per cento solo il primo partito di del governo fratelli d'italia è arrivato a prendere oltre il 30 per cento questo fa capire che evidentemente la narrazione pre elettorale è stata una narrazione molto 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 ben fatta il problema che è rimasta solo una narrazione una narrazione molto favolesca tra parentesi perché quello che ha detto il premier giorgio meloni in molti casi è finita in fumo se non peggio pensate ho ricevuto una critica questa sera anche dalla mamma da mia mamma direte come da tua mamma sì perché dice dai robin non attaccare il governo dagli tempo di lavorare ci sono quattro anni hanno quattro anni che portino avanti tutti i progetti che hanno dalle accise e via dicendo io posso comprendere l'attesa sulle accise siamo in una situazione drammatica e il governo si è trovato in mano di un buco da miliardi di euro dovuti alle reddito di cittadinanza che era studiato male era una cosa potenzialmente giusta ma studiata male che ha creato un buco esagerato ma su green pass e non trasigo per il green pass la campagna che è stata fatta precedentemente le elezioni sul green pass non deve essere rispettata tutto quello che è stato detto prima da giorgio meloni e dai dagli esponenti di fratelli d'italia attenzione non diamo la colpa alla meloni che non era sola non è stato mantenuto nulla di quello che hanno promesso e soprattutto essendo una promessa essendo una promessa che non comporta costi ulteriori per gli italiani anzi cioè mantenere la promessa di togliere il green pass di non utilizzare un green pass è una promessa che ci fa risparmiare dei soldi perché pensate il 2 di marzo sulla gazzetta ufficiale ne parla borgonovo in un articolo e lo vedete alle mie spalle e dicendo green pass eterno ecco come lo finanziano il borgonovo affonda il governo perché dice una vergogna che vengono utilizzati così tanti soldi con la crisi che c'è in italia per andare a rafforzare a creare un nuovo green pass ancora più profondo nella dei suoi usi ancora più e ancora più importante ancora più presente quindi attendo che veramente siate collegati sperando che l'algoritmo non continui a bloccare poi permettendo che i secondo me la piattaforma un po in deficit tecnico e dopo quello che è successo ieri ovvero questo questo offline era impossibile accedere ieri quindi capisco se la piattaforma in questo momento va da funzioni malicchio per quel che riguarda le dirette detto questo potrebbe essere sia la piattaforma ma anche ovviamente un fastidio che diamo dando queste notizie dicendo la verità perché purtroppo purtroppo sapete chi dice la verità in questo mondo in questo mondo a mio parere triste in questo mondo veramente triste non è ben accettato cercano di limitarti più possibile la verità insomma non è non è ben accetta non è ben accetta allora intanto guardiamo e faccio un po di saluti permettendo che il software mi ok ciao lucia ciao lucia io avevo votato anche quando era l'opposizione l'avevo e l'avevo votare sì da mani in peggio c'è chi dice da mani in peggio luce abetti e daniele brini io a votare non ci vado più d'essere sinistra parla non mantengono quello che dicono questo è purtroppo il sentiment generale delle persone andiamo a vedere cosa ha detto però borgonovo perché è importante c'è l'account cosa vuol dire giù lì giù c'è l'account robie non capisco quello che tu dici comunque mi spiegherai allora dice borgonovo oltre il danno la beffa no perché peggio di così proprio non poteva andare perché i due danneggiati da vaccino e perché i danneggiati perdonatemi non due i danneggiati da vaccino ora e dopo i danneggiati siamo arrivati proprio alle nulla più assoluto quindi è stata una vera e propria presa in giro perché nessuno ha fatto niente in più il 2 marzo è stato presentato il decreto legge numero 19 intitolato ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza pnrr e cosa troviamo all'articolo 43 non so se l'abbiate letto o meno io ho messo il link su più in più post si sente l'eco mi dicono ci sente c'è qualcuno di voi che sente l'eco non non lo so non a cosa si è dovuto sentite l'eco mi dite datemi una notizia qualcuno di voi sente l'eco però la voce la sentite normale vi chiederei questa cortesia di capire se effettivamente si sente un eco proviamo così forse meglio adesso dovrei sentire bene forse ditemi se sentite bene adesso spero 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 vediamo c'è veramente il sistema che è andato a pallino amici completamente a pallino verifica l'audio sassa ok ok così mi sentite meglio vediamo 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 sentite ancora sentite ancora ancora un pseudo eco amici vediamo adesso spero di no ok dovresti sentire decentemente normale perfetto allora attenzione faccio una prova anch'io scusatemi ma siamo collegati sentire decentemente normale no ok non dovrebbe esserci l'eco allora e andando a leggere questo articolo in sostanza progonavo di cosa si lamenta dice che oltre alle al nulla più assoluto in merito e danneggiati da vaccino cioè ovvero il governo prova promise una commissione d'inchiesta promise un promise di andare a capire il perché di tutto di tutto quello che sta succedendo quindi danneggiati da vaccino non vengono considerati le multe rimangono il sempre in merito al covid le multe ai 50 anni sono rimaste sono state semplicemente spostate 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 ma rimangono e insomma rimane un po tutto quello che c'era prima anche con conte con draghi e detto questo però il 2 marzo è stato presentato un decreto legge lo ripeto intitolato ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di resilienza e resistenza di riprese resilienza pnrr e cosa troviamo all'articolo 43 un passaggio evidenziato anche appunto da francesco borbonovo e sulla verità che suona particolarmente inquietante perché il giornalista e lo riassume così parole testuali il decreto che mette a terra il pnrr di fatto istituzionalizza l'infrastruttura digitale del green pass quindi diventa veramente una cosa istituzionale e che riemerge dal buco nero della storia in cui speravamo venisse confinato per riproporsi come realtà per il prossimo futuro ma non è tutto attenzione non è tutto quindi riproposto dal governo meloni approvato il green pass del futuro ma non è tutto l'aspetto peggiore viene dopo e qui entrano in gioco i danneggiati da vaccino andiamo a capire che cosa è successo intanto spero che riusciate a condividere il video perché in questi giorni si fa anche un po fatica a condividere quindi vi chiederei veramente di provare a condividere anche la diretta quindi la cosa più sconvolgente qual è che parte e quello che abbiamo detto la parte più sconvolgente del problema è i soldi e i soldi perché come denuncia borbonovo leggendo attentamente il decreto i soldi per tenere in piedi la struttura digitale del green pass del futuro verranno presi dal fondo destinato agli indennizi dei danneggiati da vaccino se ci sono persone danneggiate effettivamente danneggiate sono tante senza pensare a quelli che a tutti i malori improvvisi quindi non andiamo a fare i complottisti guardiamo le cose le evidenze chiare ci sono persone danneggiate che la sanità ha riconosciuto danneggiate da vaccino bene quei fondi che hanno che avevano deciso di stanziare per andare a superire a queste a questa andare a curare queste persone andare a rimborsare queste persone danneggiati da vaccino verranno utilizzati per il green pass sì amici l'avete capito bene c'è una cosa gravissima e borbonovo giustamente sulla verità si si è si è scagliato contro il governo e siamo di fronte all'abisso dice borbonovo lo strumento di oppressione viene finanziato con i soldi degli oppressi che hanno riportato danni gravi cioè mi c'è una cosa è quasi è quasi non so da pelle d'oca c'è uno strumento che ha portato danni con l'obbligo a persone i soldi che sarebbero serviti per andare a curare queste persone vengono usati per rimettere in sesto questo strumento vero il green pass come abbiamo sempre detto come ho sempre detto continuerò a dirlo per me inutile e dannoso e non solo per me resta però una speranza perché il decreto legge deve ancora passare al vaglio del parlamento quindi almeno in teoria e questa è la vera speranza anche se la parola speranza non porta molto fortuna c'è ancora tempo per modificarlo ci si augura da queste che questa maggioranza provveda a farlo immediatamente per evitare questo ulteriore oltraggio a chi ha subito dei danni e in queste ore di fatto il schillaci infatti ne ha parlato e andiamo a capire di più questo decreto uno sputo in faccia però a tutti coloro che sono stati sottoposti a restrizioni e obblighi quindi è amici questo decreto del governo di centrodestra del governo meloni è veramente uno sputo in faccia le persone e questa di questa cosa da persona di centrodestra questa cosa qua mi fa mi fa mi fa veramente mi fa incazzare faccio fatica a dormire pensando a questa cosa mentre molti l'hanno presa sotto gamba molti non sto attenzione facendo una critica diretta al governo nostro criticando un peccato non parlo del peccatore tanto ma del peccato perché è una cosa indegna è una cosa indegna qua tutti predicano bene poi alla fine fanno quello che vogliono fanno quello pure che devono fare quello che devono fare quando vanno al potere qualcuno dice tu fai quello che dico io se no se no non so che minacce facciano per per obbligare i politici a fare quello che vogliono loro e andando avanti e prova a capire anche come si possa arrivare a tanto c'è borgonovo veramente prova va oltre prova a capire come si possa arrivare a tanto se è vero che il ministro della salute schillaci dice non abbia di certo brillato per discontinuità rispetto a speranza è altrettanto vero che questo è veramente troppo da qui il sospetto di borgonovo è talmente sentite cosa dice borgonovo un'analisi molto interessante è talmente allucinante da far pensare che qualcuno dentro al ministero della salute abbia voluto giocare un brutto tiro al governo resta da capire come e perché in quel decreto ci sia finita questa aberrazione che ci sia ancora qualche burocrata e caro speranza negli uffici tecnici il governo deve chiarire in queste ore e a dire il vero per per onestà per onestà di informazione il ministro schillaci ha detto che non approveranno mai questa cosa che verrà bocciata però l'hanno messa volete mai dire che non abbiano letto prima quello che hanno presentato in questo decreto legge che è uscito ufficialmente in gazzetta ufficiale secondo voi non hanno visto prima quindi amici il il mio dubbio il dubbio più che lecito è che ci sia qualcosa di strano dietro che che o il governo non ragiona non ragione non ragiona perché dopo tutto quello che hanno fatto in questi tre anni di che di opposizione più che il governo forza italia è sempre stata pro green pass avrebbe messo in galera le persone lo sappiamo e la lega è sempre stata a nì il fratelli d'italia effettivamente andavano quei cartelli avete visto il video che ho pubblicato due giorni fa andavano quei cartelli in parlamento dicendo no green passi cioè andando proprio a litigare in parlamento quindi io non ci posso credere a questa cosa però quello che mi chiedo io è com'è possibile che non si non si siano accorti di quello che c'era scritto su questo decreto è finito sulla gazzetta ufficiale e com'è possibile che la meloni la meloni non abbia ancora tolto le multe cancellato le multe che non vanno attenzione parliamo di una quantità di multe minima e di una cifra talmente bassa che non sicuramente non fanno la differenza a livello economico considerando che abbiamo un italia che sulla soglia del fallimento siamo veramente siamo in banca rotta praticamente perché solo di interesse paghiamo miliardi e miliardi all'anno perché non ha tolto queste multe perché non le cancella e perché continua a spostarlo in modo vergognoso queste multe è veramente una cosa che non mi spiego cioè si rende conto giorgia meloni che è già calata al 27 per cento 27 e mezzo per cento ma che calerà ancora ci tornerà sotto al pd sta facendo un assist al pd un pd che non voterò mai c'è un pd che non sopporto politicamente parlando poi ci saranno brave persone anche dentro o anche no e però detto questo come come può giorgia meloni finisce dopo anni anni di gavetta finisce in presidente del consiglio finisce al governo fa degli errori madornali così ma che consiglieri hanno cioè che chi è che gli cura la parte programmatica e politica perché veramente gli lo cura qualcuno dall'alto ma non italiano perché non è possibile fare errori del genere non ci credo io sinceramente non ci credo cioè tu fino a ieri dicevi via green pass e no le multe e commissione di inchiesta e oggi non fai la commissione lasci le multe e soprattutto vai a mettere in un decreto legge green pass spendendo i soldi per farlo che andrebbero per risarcire le persone danneggiate amici è una cosa è una cosa di una gravità incredibile incredibile io non potevo stare zitto io non riesco a stare zitto in queste di fronte a queste cose non riesco a stare zitto perché conosco personalmente dei ragazzi dei ragazzi giovani che sono finiti in sedia a rotella poi conosco personalmente dei ragazzi che hanno avuto dei problemi polmonari degli infarti dei problemi non possono più fare sport non possono più vivere normalmente e questi ragazzi andrebbero risarciti il problema che i soldi per risarcire questi queste persone sono finiti per andare il governo li ha destinati al green pass a rifare la piattaforma del green pass come vuole oms cioè io mi chiedo oggi dice schillaci dice o ieri oggi dice non faremo mai io non farò mai il non accetteremo mai il green pass europeo dell'oms ragazzi meno c'è io non ci credo perché non dovevate neanche metterlo in questo decreto legge non ci credo e non vi credo più e mi piange il cuore dire non vi credo più perché la prima volta che dopo berosconi va sul governo di centrodestra ed ho detto vero ero speranzoso pur non avendo votato centrodestra perché ho dato appoggio a a italexit ero speranzoso perché ho detto proprio per l'alternanza cambiamo cambia da da centro sinistra centrodestra qualcosa cambierà e purtroppo è stessa minestra cambia il cuoco che è cambiato lo chef ma la minestra è la stessa non cambia niente prendiamo gli ordini da dall'america prendiamo gli ordini da dalla ursula von derlein dalla signora sms prendiamo gli ordini da da persone che gestiscono così la nostra italia gli agricoltori sono stati a roma me l'avete chiesto in diversi sono stati a roma per darvi un'idea grandi chiacchiere no per ora grandi chiacchiere ma nulla di e alcuni mi hanno detto robbi secondo me alcuni degli agricoltori coinvolti in questa riunione con il ministero mi hanno detto robbi secondo me fanno di tutto per questo incontro è nato per tenerci buoni questi qua arriveranno alle elezioni europee tenendoci buoni 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 rimandando riunioni su riunioni per poi darci un calcio nel sedere a tempo debito ogni dubbio è recito ogni dubbio è recito vabbè io ci tenevo a fare questa diretta un po noiosa su certi aspetti molto importante per altri e meloni meloni un invito meloni presidente meloni presidente giorgia meloni forse lei manterrei manterrei le promesse perché non non tanto perché non prenderà più un voto tornerà allo zero assoluto tornerà al 10 al 12 al 15 al 5 per cento non so quanto potrebbe potrebbe fare come salvini salvini aveva un 40 per cento si è trovato con un 8 per cento in mano e renzi aveva un 40 per cento la sua presunzione le promesse non mantenute è finita anche lui a uno zero assoluto quindi non tanto per i voti perché a me dei suoi voti non me ne frega niente non me ne può fregarne meno è il suo lavoro non è il mio fare il politico più che altro giorgia meloni perché non è trovo che una mamma italiana è una è una mamma anche italiana e non possa prendere in giro la figlia come sta facendo lei voi direte perché prende in giro la figlia perché la gina figlia una cittadina italiana e quando prende in giro i cittadini italiani un politico prende in giro anche i suoi figli che sono cittadini italiani io quando dico le cose faccio le cose non le faccio per me perché io posso io posso anche stare a pane d'acqua e reclusi in una stanza al buio non mi interessa avrei pregherei e fine i miei figli no quindi quando faccio le cose le faccio esclusivamente per i miei figli come dovrebbe essere per tutti penso a penso le no alle prossime generazioni e e mi dispiace mi dispiace che che la che giorgia meloni stia facendo una figuraccia nei confronti della figlia perché la figlia un giorno crescerà e capirà quello che sta facendo il governo meloni stessa cosa non ne parliamo del governo di pd perché attenzione non so quale caricola pd per l'amor di dio anzi per me il pd dovrebbero sciogliere il partito e andare a fare altro c'è bisogno nel c'è bisogno né ce ne sono di lavori utili per i parlamentari del pd e però veramente un invito è un invito non abbandonate questa voglia di di poltrona questa voglia di poltrona questa voglia di potere e tornate a fare i politici e che si dedicano al popolo che si dedicano al popolo perché state veramente state veramente facendo solo esclusivamente quello che vi impone vi chiede l'europa quello che vi chiedono i potenti quelli che vi chiedono i si i vari soros e in company sappiamo sappiamo che detto questo torno non si sia finito fuori dal corci se ancora non so neanche di cosa abbia parlato perché questa sera mi sono dedicato a mettere a posti computer perché dopo il blackout informatico di ieri di meta tutti i software sono sballati non si riescono a fare le dirette per riuscire a fare questa diretta con un minimo di grafica siamo impazziti siamo veramente impazziti detto questo vi vi auguro una buona serata come vuole dimostrarsi quello che ho detto ieri ieri l'altro è tutto vero tanto che paragone ha ipotizzato il ministro è stato speranzoso il ministro schillaci non ha detto che non approverà niente che boccerà il green pass europeo io amici finché non vedo non ci credo non finché non vedo non ci credo sinceramente io ci crederò quando diranno abbiamo bocciato effettivamente era una stronzata una cosa scritta male su un decreto con questa con questo scherzo in mezzo era uno scherzo brutto che ci hanno fatto al governo e c'è ancora giordano giannino che vado infatti siamo i collegati non voglio rubarvi tempo vado a vedere cosa ha detto giordano qualcuno mi sta scrivendo quello che c'è giordano che è giardina grazie giardina cocco vado a vedere giordano anche io amici amici meloni avevo ragione paragone speranzoso stavo dicendo pensa che schillaci ma io non ci credo io io dirò è vero paragone veggio a luigi avevi ragione hai fatto bene essere speranzoso e io sono stato pessimista spero di sbagliarmi di che il mio pessimismo questa volta venga e non sono sempre pessimista prometto è però questo mio pessimismo odierno venga smentito dai fatti che il governo effettivamente meloni cancelli il green pass per sempre non si sottomette all'europa ma notte siamo messi male dice daniele brini caro daniele ma vedremo vedremo io per ora per ora mi fido mi fido il giusto ciao a tutti vado a vedere mario giordano vi voglio bene ci vediamo domattina per stracciare la notizia quindi domani mattina vi voglio bene ciao a tutti buonanotte